Quarta vittoria consecutiva interna per la Betaland che piega 76 a 71 la Open Job Metis e sale a 10 punti in classifica per Varese che resta a quota 6 in graduatoria e la seconda sconfitta di fila, la quarta nelle recenti 5 partite, positivo l'approccio di Ayenga e Anosiche, protagonisti del più 7 per i viaggianti, risposta immediata di Tepic e Diner, parziale di 16 a 2 in 5 minuti e più 7 per i padroni di casa all'ottavo, i siciliani tirano bene da oltre l'arco e salgono sul più 9 al sedicesimo con gli annuzzi e Delasch, Bulleri, Ayenga e Menor ci mettono una pezza, 39 a 34 all'intervallo, in apertura di ripresa Diner e Arci riportano la Betaland sul più 9, cresce la difesa di Di Carlo, i Lombardi realizzano 9 punti in altrettanti minuti e scivolano a meno 13, Ayenga, Kangur e Menor permettono alla Open Job Metis di rientrare a meno 6 al 36esimo, Arci, gli annuzzi e Tepic ricacciano definitivamente la compagine di Moretti, più 11 al 39esimo, 7 su 22 da 3 più 9 al rimbalzo per i siciliani contro il 6 su 24 degli avversari, 16 più 10 palloni catturati per Arci, 13 per Diner 11 e 6 falli subiti per gli annuzzi, 7 gli assist di Fittipaldo, dall'altro lato 19 e 7 falli subiti per Ayenga, 13 e 6 assistenze per Menor, 11 più altrettanti palloni arpionati per lontano sicché. . . . . . .